Musica Si viene a Matera per visitare i sassi. Cosa sono i sassi? Sono degli antichi quartieri dove la gente viveva all'interno di cavità naturali, appunto le grotte, fino praticamente agli anni 50. Matera oggi è una città anche molto viva e magica. Non si può insomma non venire qui almeno per un giorno perché è un'esperienza venire a Matera, è un'esperienza da vivere. Musica Non dimentichiamo che Matera viene ritenuta una delle città più antiche del mondo e i suoi abitanti da sempre hanno scavato questa roccia tufacea realizzando le loro case. E proprio in quelle antiche case oggi si trovano molti bed and breakfast per esempio, dove noi generalmente facciamo per notare i nostri clienti. Quello che rende Matera una città unica al mondo è sicuramente lo stretto legame che la città ha con l'acqua. La questione di cercare di avere acqua tutto l'anno in un territorio dove non piove molto, soprattutto in estate. Per sopperire a questo bisogno tutto quello che vediamo adesso è collegato da un fitto sistema di cisterne di raccolta dell'acqua piovana. Collegati a cisterne più grandi cittadine, la più grande è quella che si trova in piazza Vittorio Veneto, e da questa cisterna poi l'acqua arrivava in ognuno dei sassi, in ognuna delle case del rio dei sassi. Grazie a tutti.